Intro Neeeeee Bella raga qui, Alfigame E benvenuti al mio anniversario del mio canale Oggi 14 novembre 2015 Alfigame Tens compie 5 anni dalla sua creazione Sembrava ieri che io mi misi a creare il canale Per bla 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 Le solite storie che inventano i canali Perché devo non farlo No, seriamente, allora È davvero passato molto tempo Sono solo 5 anni, ma è comunque passato sto tempo Però in realtà non significa che sono su YouTube da 5 anni In realtà lo sono da... 8 anni Infatti il mio primo canale Risare al 2007 Un vecchio canale chiamato Alfjuve95 Nome U Però poi purtroppo per motivi di copyright Sono stato bannato E vabbè, fa niente Perché già nell'ultimo anno Dove avevo già ricevuto due segnalazioni di copyright Già avevo intenzione di creare un nuovo canale E di chiamarlo Alfigame Poi ho pensato che volevo anche farci dei tutorial all'interno E quindi l'ho chiamato Alfigame Tense Tecnologia e non solo I miei primi video erano ovviamente NIE Diciamo i miei primi video dal 2007 fino al 2010 Quando sono stato bannato erano video Così Giusto per Non avevano commentari Non mostravo la mia faccia Perché ai tempi avevo vergogna Questa vergogna a quanto pare l'ho superata nel 2010 E adesso me ne vergogna ora A vedere i vecchi video E' proprio questo quello che voglio fare oggi Cioè guardare i miei vecchi video Dagli un commento A caldo Diciamo Proprio mostrarvi la mia reazione Questa è una roba che fanno i canali più famosi Che dicono Ah ma guardiamoci i miei vecchi video La prima cosa è fanno subito questo Ovviamente questa è una cosa per famosi Io non sono tanto famoso E niente Quindi armiamoci di cuffie Non delle cuffie da gaming Perché tipo Tipo nè E vediamoci I video Ho ben 460 video Uh Beh alcuni sono privati Bla 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 Però Quindi Primo video Coprire il led rosso Su Nokia 5800 Express Music Notare già come rido Ecco Perché là sopra ci sta La mia faccia Uh Mettiamo la massima qualità Che è il 360 3 2 1 Ciao a tutti in questo video Vi faccio vedere come Disattivare Il flè La luce rossa Che compare sui nostri cellulari Nokia 5800 Per farlo Abbiamo bisogno Del nastro isolante Ho qua Già tagliato una striscia Bisogno Togliere la cover Tagliare Una striscia sottile Di nastro isolante E applicarlo Sul led E con questa mia faccia Seriosa del 2010 Di ben 5 anni fa Allora 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 Non so da dove parti Allora Togliendo la faccia Togliamo la faccia Perché tanto Che brutta Prescina Cioè brutta adesso Cioè Figuratevi 5 anni fa Notare la differenza Tra barba e senza Allora Il punto è questo Vorrevo iniziare E la prima cosa Che volevo fare Era mostrare La mia faccia E il mio commentary E lo mostrate Dice Così e così Allora Poi Il video Togliete i mezzi Il fatto che non è in HD Perché ai tempi Il mio unico mezzo Per registrare Era il Nokia Proprio quel cellulare Il Nokia 5800 Per me Era il lusso Perché passavo Dal registrare Con i vecchi cellulari Che registravano In formato 3G Una roba Tipo A 10 fotogrammi A seconda Una qualità Schifosa A passare a questo Però per me Era il massimo E con questo Infatti ci ho fatto Un po' di video In realtà Già un bel po' di video L'avevo fatto Sul vecchio canale Che avevano bannato E diciamo Copii il red rosso Altro non era Prendere il nastro isolante Mettevi sul flash E poi il flash Non ti funzionava Ma sti cazzi Però Quell'red rosso Serviva per non far Vedere che tu Stavi riprendendo Qualcuno E vabbè Questo era Vediamo com'è che salutavo All'inizio salutavo così Ciao a tutti In questo video Ciao a tutti Sei una cosa Semplice E banale Vediamo com'è che finivo Levarlo E toglierlo Pacemente Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Cioè Semplice Come cosa Quindi Tanti auguri Al mio canale E niente Noi ci vediamo In un prossimo video Seguitemi sulla mia pagina Facebook Link in descrizione E niente Da Alfigame Tutto Io vi saluto E ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti